Tutto questo è veramente un segno di irresponsabilità di un gruppo dirigente, quello del Partito Democratico, che logora la democrazia e che apre la strada al populismo, al qualunquismo, perché non c'è il minimo dubbio che tutto questo spezza il legame oramai purtroppo fragile fra i cittadini e le istituzioni del Paese.